metto anche il lievito e poi facciamo i miei Ciao Grazie di essere qui 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 Con me oggi Oggi sono qui di nuovo nella mia cucina Siamo qui Nella cucina Perché voglio preparare insieme a voi Un piatto Una ricetta Un alimento che io Amo in la foglia Che è la focaccia Bisogna avere però Una premessa abbastanza importante Perché so Che molti di noi Come in realtà anche io siamo molti attaccati Alla tradizione Questa focaccia Non è Né genovese Né parese È diciamo Una focaccia mista Senza impasto Facile Veloce Che so che mi viene In realtà Vorrei anche sperimentare Nella focaccia Nella focaccia Parese Però si Non è Né l'altra In senso che Se fosse Cenovese Avrebbe più odio Io non penso Avrebbe una patata Ma parese invece C'è da impastare È più sottile Più croccante Insomma È un misto Quindi non uso neanche In realtà Una ricetta particolare Diciamo che un po' Ho preso un po' Di cose E le ho mischiate insieme Però Mi viene È buona Quindi ok Quindi sì Non è proprio la ricetta Ideale Da seguire Se volete fare La focaccia Toc Toc Vero dire Toc Ho detto Toc Quindi Cominciamo Subito E ci servirà Della farina Questa è farina Biologica Semola Di granoturo Io uso La semola Di granoturo Ma Ho visto usare Diversi tipi di farine Quindi Io so Poi Abbiamo Il levito di birra Io sono fan Più Del levito madre Però Non ce l'ho Ho già provato Ma non sono capace Quindi se devo fare qualcosa in casa Lo faccio con il levito di birra Una patata Piccolina Questa Questa pesa Circa 140 grammi Con la buccia Senza peserà un po' di meno Olio Questo olio Ce n'è un po' poco Però Questo olio È buonissimo L'abbiamo preso Vieste Quest'estate E Tra l'altro 6 euro Al litro È pochissimo Abbiamo fatto Anche l'olio piccante Con questo È Non vi dico Abbiamo poi Dell'acqua Che ci servirà Di abito Adesso andiamo A metterla E un po' di sale Questo sale È sale grosso E poi tritato Perché il sale vino Non lo uso Perché mio padre dice Che ha altri sapori Quindi io li credo Poi dovremmo avere Un po' di Qui o di rosparino Insomma Poi serviranno Povodori Oricano Lo rosparino E cipolle Che io metto sopra Quindi questi sono Gli ingredienti È una cosa Veramente molto Molto Semplice Però mi andava Di farla Con voi Semplice mi servono 8 grammi di lievito di birra metto anche un cucchiaino metto anche un cucchiaino di zucchero per attivare il lievito per attivare il lievito di bennett Ok, ho messo 800 grammi di farina e vado a mettere l'acqua Metto anche il lievito Ora premessa, so che andava messa prima l'acqua per la farina Però ho sbagliato Vado a mescolare cercando di non formare i grumi Che bello questo Ciao la patata è cotta adesso andiamo a sbucciarla andiamo a schiacciarla andiamo a schiacciare andiamo a schiacciare andiamo 25 grammi di olio extraverge andiamo a schiacciare e 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 eccoci tornati vado vado così con le mani proprio e adesso versiamo no no ragazzi ok basta non scoppi tutte le bolle e 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 adesso metto un po' d'olio sopra perché voglio appunto spalmarla e questo suono è praticamente il motivo per cui ho fatto questo video quindi e 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 se per caso non si notasse vi dico che mi sto divertendo un sacco la sinfonia dei carboidrati e dei grassi è più bella in assoluto bene adesso mettiamo questo a riposare un'altra retta adesso 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 tagliamo un pochino di cipolla e il pomodorini e lo sbarino e 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 intanto ho mangiato ho fatto merenda avevo una tipo spremuta e ho fatto i riservi questo banana bread che non cioè non ho messo la carta da forno quindi ci è baciato sotto l'ho rovesciato e si è separata la crozza all'interno però è senza zucchero ma è dolcissimo dolcissimo senza zucchero vuol dire anche senza zucchero di canna senza miele senza niente dolcificato solo con le banane ed è venuto molto buono quindi si l'ho trovato magari lo condivido su instagram la ricetta l'ho trovata su su profilo comunque merenda fatta adesso mettiamo contiamo la focaccia e la metto la metto in forno insomma bene 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 allora prendo anche l'origano sono troppo carica perché scusate ma questo video è venuto super bene e sono troppo carica allora da una parte mettiamo le 3 bolle le 3 bolle sembrano tante ma vedatevi non lo sono in mezzo mettiamo un po' di rosmarino così allora e qui mettiamo i pomodorini qui 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 non origano e adesso in forno a 180 gradi per 20, 30, 40 minuti ah, i pomodori con l'origano questa è un po' più tipica tipo parese rosmarino classica e cipolle spero davvero riusciate a percibire e la crocaccia la crocaccia la focazza che sfrigola ok bravo assaggio prova ancora caldezza è buonissima io spero davvero questo video io spero davvero 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 questo video vi sia piaciuto e vi do la buonanotte 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 una macchina scarica quindi non posso farla buonanotte classica e mando un bacione che li spera grazie a tutti grazie a tutti